Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 67esimo episodio della nostra serie della Master League Signori, io sono Maullo e oggi torniamo a giocare Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Signori, negli scorsi video abbiamo sferato le imprese praticamente Siamo riusciti nelle imprese più grandi, abbiamo portato a casa due vittorie Siamo sempre ultimi in campionato con 6 punticini Però, però, però iniziamo un attimino a ingranare, a ingranare il gioco E questa cosa ci sta Ci sta, ci va bene signori, ci va bene Procediamo al prossimo incontro che non sono niente contro chi Andiamo a giocare Perché è da un po' che non registro signori Perché scorsi fine settimana ho registrato di seguito E quindi non, no, no, no Formazione, impostazione formazione Andiamo a caricare un attimo i dati della mia formazione bellissima E quindi diciamo che non giocando da un po' Dovremmo un attimino anche riuscire a riprendere i tasti E non sarà per niente facile Caricato, allora Ivanov, Stromer, Cecil, Forlanden Ok Artichellini Matt, Babangida Miranda Cassolo, Bolatta Valeri, espulso Perfetto Giorga non c'è Va bene Ok La formazione c'è signori Giochiamo contro il Dortmund Ok Mi ricordo i tasti? Assolutamente no signori Però, però, però L'importante è non perdere il treno che ci sta portando bene L'importante è non perdere il treno che ci sta portando bene Eh, quindi direi Il treno che ci sta portando bene Con due vittorie che abbiamo fatto Nel due scorsi video Direi di Tenerci su quella strada, no? Voi che dite? Bonnaggia, Babangida Troppo, troppo palla Troppo palla col Bamba Troppo palla col Bamba Non perdere sto pallone Cellini Cellini non perdere sto pallone Che ti licenzio subito Bravissimo Miranda allo spazio Miranda allo spazio Vede Bolatta Che vede Che vede No, bravo, bravo Va bene il fallo Bravo, Babangida Bravo, Babangida Giocala lì per Matt Bravissimo Matt No Mannaggia Mannaggia, mannaggia Mannaggia Tint Lottini, Lottini Lottini Bravissimo Ma non buttarle Rimesse laterale Stromer Porca miseria Mi avete detto Negli scorsi video Che ho fatto bene a comprare Babangida Signori, signori Sì, ne sono convinto anch'io Ne sono convinto anch'io Perché ci da Quel movimento Ma porca Ma porca Levagliela Bravissimo Dove sta? Va bene Va bene No, 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 no Ah, sti passaggi sbagliati Che Matt mio Matt mio Dico io Matt No, 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 no No, porca miseria Infame Che cazzarola di gol Che abbiamo preso Ma che cazzarola di gol Porca miseria Non riuscire a fare un'azione Una Un'azione Un'azione Non riusciamo a tenere il pallone al centrocampo Ma porca miseria Ma porca miseria Che prendere un gol così Ma come si fa Dico io a prendere un gol così Ma porca miseria Ma porca miseria Come si fa a prendere un gol così Non riusciamo a tenere il pallone al centrocampo Ma giustamente non ho centrocampo Come devo farlo io a tenere il pallone al centrocampo Se non ho centrocampo Però mi serve giocare con Con le incursioni di Babangita Che non si incugna più signori Babangita non si incugna più Dai cazzarola Abbiamo perso un attimo il feeling signori Abbiamo perso un attimino il feeling Dobbiamo riequilibrare Riequilibrare Ricordo a tutti che sarà impossibile Ottenere la promozione quest'anno Perché siamo partiti veramente In maniera scandalosa Scandalo Scandalo signori Babangita riesce a girarti a fare No niente Non ci riesce signori Non ci riesce Ivanov Se tutti noi grande Ivanov Giocala subito Giocala subito Giustissimo a trovare il gol del pareggio Alla fine del primo tempo Dove cazzarola è Babangita? Il gol del pareggio alla fine del primo tempo Sarebbe No di lusso Di più Vai babba Vai bamba Vai bamba Dove cazzarola Vai bamba mio Calma 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 Non facciamoci prendere l'agitazione Abbiamo ancora tutta la partita davanti Stiamo sotto semplicemente di 1-1-0 1-0 è recuperabilissimo L'1-0 è recuperabilissimo Mannaggia L'1-0 è recuperabilissimo Noi abbiamo i giocatori per recuperare Per poter recuperare questo Questo svantaggio Affanbagno Porca miseria Riesce ad arrivare la palla Babangita Oh grande Babangita Che però sbaglia Completamente Il movimento Cioè Me lo triplicano Io capisco tutto Però Porca miseria Non riesco No Che brutto fallo Che brutto fallo Brutto brutto fallo Signori For London Si becca il cartellino giallo Va bene Va bene Va bene 32esimo Questo pallo potrebbe essere segno di fortuna Signori Mamma mia che palo che hanno preso Comunque Che palazzo che hanno preso Matt mio Devi fare filtro però Matt mio Ivanov 34esimo Continuano loro a attaccare in maniera imperterrita Continuano loro ad attaccare No vabbè Dai però Ma in quanti stanno giocando loro? Porca di una miseria infame In quanti stanno giocando? Sì vabbè Poi se io poi faccio questi errori Se io poi faccio anche di questi errori La cosa non funziona Ivanov Grande Ivanov Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Sesi Sesi Matt Matt Io non capisco Perché Vai Babangita Vai Babangita Parti Babangita Parti Babangita Parti Babangita Dai Dai Babà Dai Bamba Dai Bamba 1-2 Velocissimo Tieni la Babangita Tieni la Babangita Tieni la Babangita Provacchi Ma porca No 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 Passagliela 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 Babangita Babangita No Avamo scatenato babangita smedi vedete le possiamo fare queste cazzarola di azioni grande no 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 l'avevo recuperata sta palla o no nemmeno di recupero no la beffa nemmeno di recupero la beffa nemmeno di recupero no meno male meno 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 albito fischi la fine fischi non deve fischiare la fine io butto la palla e rimessa laterale ivanov bravissima va bene va bene così bubba bubba butta sotto avevano potente fine del primo tempo porca miseria un'azione abbiamo fatto siamo riusciti a scattare il babangita in un'azione erano riusciti a fare una cosa buona fermi tutti rispostiamo il bamba da quel lato se non riusciamo a fare punti signori è un problema se non riusciamo a fare punti non è un problema non tanto per un discorso di classifica signori ma fondamentalmente proprio un discorso di 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 giocatori da comprare cioè ci servono giocatori veloci signori ci servono giocatori veloci per attuare il gioco che ho in mente io ivanov miranda mio miranda mio non ti puoi fare anticipare così porca miseria miranduccio mio non ti puoi fare anticipare così no dai ma perché la devi giocare lì i passaggi orizzontali sono la cosa più sbagliata di questo mondo ma perché no vabbè non riusciamo a far manco un passaggio di fila ma veramente siamo così siamo così rincredini questo com'è che sto pallone arrivato di qualcuno non lo sa spiegare come oh dai dai babà fai babà fai babagita vai babagita vai babagita uno non ci posso credere non ci sono riusciti a partire in contropiede con babangita in maniera pulitissima e ci siamo fatti fregare in maniera sgamatissima dai 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 che fuori ok dai 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 ma babagita da solo non può andare signori il bamba da solo non può andare vabbè dai però cazzarola fallo un passaggio giusto perché non devono riuscire a fare i passaggi giusti quelli miei io non lo so io non lo so sulla base di cose meno riescono a fare i passaggi giusti io non lo guarda lo guarda lo guarda lo guarda lo signori ed io sinceramente è da qualche giorno che non gioco qualche giorno che non gioco quindi ho perso quella fluidità no no divano vc salva ivano vc salva riesce arrivato pallone a qualcuno dei miei no non ci posso credere e quello c'è tutto lo spazio per costarla riesce babangita p a un pallone porca miseria porca miseria dai però noi non lo so signori non lo capisco perché no vabbè e bava fan bagno dai ma ho preso il pallone ma non potevo sparire da lì scusami mamma mia mamma mia che già siamo vista brutta né qualcuno mi spiega perché babangita deve stare sempre a largo perché babangita sta la ha sempre farà mai no era dentro era dentro era dentro era dentro era dentro era dentro mannaggia era dentro dai cazzarola perché 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 secondo voi perché perché ho finalmente adusi piglia un cartellino giallo per fallo sul miranda noi tanto abbatteremo questa punizione perderemo il pallone sicuro come la morte met per il bamba il bamba il bamba accelerato il bamba il bamba il bamba si ferma riesce a rientrare no perché non lo posso errore mio signori errore mio errore mio errore mio l'avessi passata l'avessi passata del motoro del gol del pareggio l'avessi passata del motoro del gol del pareggio signori invece il calcio dice che ho sbagliato col subito non riesco a recuperare un pallone per andare in contropiede impressionante non riesco a recuperare un pallone per andare in contropiede 11 per andare in contropiede non ci riesco daglielo al bamba no 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 niente niente da fare non riesco a recuperare un pallone per andare in contropiede 11 per andare in contropiede non ci riesco, un pallone che recupero non riesce ad arrivare al mio uomo migliore praticamente, oh, dai vedi se me l'ha rotto, ok perché lì perché lì, perché lì sta bapangita, sta bapangita trova bapangita, il nuovo gioco dell'estate trova bapangita, bello l'1-2 veloce, bello l'1-2 veloce, provaci e dai così cazzarola di una miseria infame l'ho vista fuori sta cazzarola di palla l'ho vista fuori sta cazzarola di palla mamma mia grande bamba, la rimettiamo in piedi al 34esimo, evitiamo di fare cretinate cortesemente evitiamo di fare cretinate cortesemente abbiamo tenuto a botta finora, evitiamo di fare cretinate ma no ecco, questo è perché il gioco deve far vincere il Borussia questo è perché il gioco deve far vincere il Borussia, signori, dagli alla bamba parti bamba parti bamba, parti bamba dai bamba, dai bamba, 1-2 1-2, 1-2 velocissimo mamma mia che brutta palla no, 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 no no, no, no perché ho voluto fare la ho voluto, ho voluto no, ma ma perché? perché? ma va a te la piglia in del secchio ma guarda che razza di, 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 di cosa gli ha dovuto regalare fuori sta palla fuori sta palla fuori sta palla cazzarola cerca bamba no, Babangita è partito Babangita è partito Babangita è partito, signori il Babangita è partito bamba, bamba bambagita tu mi consigli cazzarola doppietto di Babangita l'Inter roll ribalta l'Inter roll la ribalta, signori mamma mia mamma mia al 42esimo al 42esimo Inter 2 Borussia Dortmund 1 fermi tutti, signori fermi tutti fermi tutti teniamo sta cazzarola di palla teniamo sta cazzarola di palla fuori, 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 fuori minuti di recupero minuti di recupero minuti di recupero fuori sta cazzarola di palla no, mette mio mette mio ho detto fuori sta cazzarola di palla fuori sta cazzarola di palla albitro, fischi albitro, albitro, albitro albitro, albitro albitro, albitro fuori, fuori, fuori albitro sì, signori partita terribile grandissima partita dell'Inter, signori tolgo sì, cazzarola mamma mia che vittoria battiamo il Borussia Dortmund 2 a 1 7 tiri a 15, signori doppietta di Babangita con assist di Miranda e bolatta porca miseria porca miseria, signori spettacolo ci portiamo altri tre punti dentro no, mamma mia funziona questo schema funziona, signori dobbiamo semplicemente riuscire a prendere meno gol saliamo a 14 punticini non sono tantissimi però piano piano risaliamo la china non siamo più ultimi, signori stacchiamo le ultime due Amsterdam e Marsiglia e a 9 punti ci portiamo al sesto posto in classifica dai, dai, signori dai, dai sarà sudata ma sarà bella combattuta detto questo, signori io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi studenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao 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 ciao